Ciao a tutti ragazzi e bentornati al LoL Club, io sono Padmene e sono qui con una nuova puntata, puntata, sì, di Ultra Hardcore. E' fichissimo sto posto, che cavolo, a parte 10.000 mob, ma va bene, e ci servono un tipo di diamanti, non mi ha dato niente, ok. Ok, io dormirei immediatamente, sto usando lo Snapshot, difficoltà, siamo a 2.30, giorno 5, Snapshot infatti sto usando il 20B, e che cavoli glitch. E eravamo arrivati qui, già dall'ultima volta ve l'ho fatto vedere, diciamo, il carbone, e che cavolo, no, troppo carbone. Il nostro obiettivo è sopravvivere, vi ricordo che non possiamo, che ogni danno che subiamo è prezioso, Io vengo da di qui, o se non vengo allora sono circondato da quel bioma bruttissimo E mi sto per ammazzare, me lo sento. Lì non si caricano i chanc, ma è tutto normale, tutto in Minecraft test. E ma allora sono pirla. Sì, morirò per caduta. Probabilmente. Quasi sicuramente. Però se non si caricano i chanc, ok, ora va meglio. Nel caso in cui anche voi avete dei problemi di chanc, basta che premete F3 più A. E automaticamente ricrea tutti i chanc. E' una modalità, è client side, ovvero solo il client può succedere. Va va, e io devo andare su. Anche se... Ho sentito un ragno. C'ho i mob bassi. No, c'ho il volume basso. Ok. Il volume è una di quelle cose che si resetano ogni 3x2. Oh, ci piace sto posto? E' carino. Ma io voglio... Io sto viaggiando perché voglio trovare. Oh. Ok. Un deserto, un bioma raro. Non una foresta banale. Che fa veramente schifo. Senza far... senza morire. Trovare un bel posto e rinfilarci di nuovo in caverna. Ho una crafting table, ho del legno a fagonate. Uno squid. Queste sono canne da zucchero. Questo è un bug di luce delle canne da zucchero. Non lo so perché. Andateglielo a chiedere. I canne da zucchero. Sono tentato... A prendere l'arco. Eh sì. Prendiamo il mare. Se non lo sapete... In barca e sui cart... Fermati. Già finito? Non ho una mappa. Eh, ma che cavolo. In barca e sui cart non si... Non diminuisce la fame. Non ci piace come cosa. Canne da zucchero. Oh! Questo è fantastico! Wow! Questo è il bioma dei fiori! E là? Foresta? No. Che è fichissimo! È... È uno dei biomi più belli questo. Ma non ci fermeremo perché voglio cercare qualcosa di migliore. Levati squid. E mangerò una mela. La prossima volta mangerò una mela. E... Boh. Ok. Andiamoci. Tutto il materiale che ci ha buttato. Che può sempre servire. E ci sono questi bacchi di generazione che sono mostruosi. Non dovrei saltare in discesa così però. Bello che ha la punta. Potrei andare a scavare sotto queste... Ho visto un deserto? Deserto! Sì! Sì! Voglio un villaggio ora. Ho chiesto il deserto. Mi avete dato il deserto? Aha! Ale! E... Signori... A parte... Glici e generazioni che sono mostruosi. Deserto! Ok, c'è una montagna in mezzo. Io mi mangio una mela. Un cuore e mezzo. Ma che cavolo! Vabbè. Ehm... Quello è pericoloso. Perché se si aggiorna il junk... Io muoio. Questa è una parte dello snapshot. Le gallerie nel deserto. Che sono... E c'è anche il fabbro. E c'è anche il fabbro. Sono contento. Ciao! E che cavolo no, eh. Amo di ferro no, però... Ciccio, sei... Sei fantastico. Ossidiana! Ossidiana! Oh! Oh! Ok! Dove sei tu? Ehi 9 lingotti di ferro per uno smeraldo Perché sto prendendo gli smeraldi? Perché c'è qualcuno che sicuramente mi dà qualcosa di buono E poi tanto ferro non mi serve al momento Bravo Questo è uno dei trade migliori Ehi, tre diamanti per uno smeraldo, no, però Protezione 1 Tu Fortuna Cavolo, siete pochi? Siete davvero pochi Ma siete fantastici E in più Se troviamo Un Posto di lava Ce ne andiamo nel nether Signori, nel nether Senza il diamante Sei pezzi di osidiana me l'ha dati quel bravissimo uomo Wow Qui c'è Il La taiga La Come cavolo si chiama? La savana? L'ace della lava Me ne servono due però E non ho preso i sti Vabbè Gambale Questi Vabbè Chi se ne frega Ce ne erano due ma Lagga Ma va benissimo Sta creando il nuovo mondo Perfetto Tanta carne Non me ne farò niente Di tutta sta carne Però Lava Ho Un secchio d'acqua Me ne servono due Perché al momento ho sei Questa è la grassa che non prende? Rumori di minecraft E Abbiamo visto un po' di cose oggi Sono contento Però Adesso facciamo lo stupido Io faccio tanto lo stupido Ma Vabbè Basta che ne trova uno solo Ne trovi Uno solo Lava Qua Qua mi ammazzo No No Però mi ammazzo Se non dormo Ok Che corsa Che corsa Sembrava TNT Vabbè Lava Lì deve esserci un altro Ah il bioma Quello dei fiori Che è bellissimo Se avessi un secchio di lava Uno solo Andrei lì No Non so perché mi son fermato Ma va bene Spero che vi piaccia sta parte Anche perché sto tipo In silenzio parecchio Ma velocizzerò tutto Perché io sono una brava persona E perché non mi piace caricare un video di due ore Che non faccio niente Lago d'acqua Acqua 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 Quando non vuoi la lava Ci muori dentro Io che la cerco Ci sono anche bug così Perché io sto continuando a caricare Chunk Perché sto esplorando E quindi i chunk continuano a caricarsi di nuovi Ma era qua sotto Non lo voglio scavare Ma cioè Devo scavare Seriamente Devo scavare Dove la lava? Sarà qua dietro? Sì è qua dietro Va sotto Dingo Signori io non lo faccio col portal Coperto C'è quello piccolo Per forza Quindi è uno Due Tre Quattro Poi mi spiegate perché l'ho fatto così in un minuto Ma va benissimo Ehm no Ok Perché due dicevo? Vabbè Comunque Non ci interessa Mi serve dell'acqua Prima di tutto Oh signore Vai ora a posizionare la lava Vabbè qua l'acqua non è tanto distante Me la tengo qua L'acqua Mamma mia Sbagliare di metterla Ok Sono pirla C'è una rimasta meno Ok Facciamo un modo diverso Do Ok Tanto me ne servono solo due Uno e due Dai 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 Andiamoci l'acqua sopra E Tanto un buco più buco meno Perfetto Ho un pezzo di ferro E della flint? Non ho della flint Quindi andiamo qua sotto Questo comunque È il portale Fatto Bingo Posso andare nel nether? No Chi se ne Andiamo nel nether Sono morto Sono morto Sono morto Sono a fortezza Sono morto Sono morto Ho l'accendino Quindi non me ne frega niente Di Proteggere Lo Orca miseria Torce Il secchio d'acqua Non mi serve tanto a niente Porca miseriaccia Ho dieci ori E ho delle mele La mia skin non c'è Sì Perché minecraft È un periodo Che ha parecchi problemi Non ho più oro E ho una mela d'oro Questa mi salverà la vita Beh Ok Là ci sono i mostri Ho visto anche Porca miseria Va bene Posizioniamo Posizioniamo la roba Che non mi serve Questa 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 Terra Sì Questo Questo La caccia Vabbè Mettiamo via la caccia Questo La zucca Ok E tanto Dobbiamo passare di qui Per tornare su Ora Mamma mia Cioè Vedete laggiù A parte che ho trovato la cesta più brutta del mondo Due cendini No Porca miseria Porca penere Porca miseria Porca miseria Devo fare così Ok Così E Sperare che sotto Non sia vuoto Ok Ehi Sono qua Porca miseria Cosa mi tocca fare Ma Perché te l'ho nato là giù? Non ho un arco Non ho mai ucciso un ragno Ok Ossa Ti ho paura No 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 Via 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 Ma porca Miseria Oblade Come fanno a spawnare Di là Eh che però Devo andare Dove andarci di là Cioè Devo andare di là ma sono sulla lava mi stai mettendo paura ciccio ok vieni qui si sta caricando di fuoco ok, vieni qui cazzo, di blade ho questa signori è uno dei miei obiettivi che sono venuto nel nether la verga di vampo che perché perché posso fare le pozioni mi serve solo signori no non mi ha perso non mi frega niente non avete idea di che felicità ho signori porca miseria sì sì c'è uno scheletro fuori via 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 come mezzo come mi ha fatto danno Oh, eh? Non facciamo stupidate Signori Questo è il letto E ce lo togliamo da qua Abbiamo un portale del Nether Che non me ne frega assolutamente più niente Perché ho quello che volevo Credo Adesso mi vengono i dubbi Eh Vabbè Faccio quello che devo fare Che vi faccio vedere E posso stoppare qua l'episodio Signori stiamo per andare vicini all'immortalità Con l'alambicco Che penso che Vabbè, no, mi trasferisco Andrò nella zona dei fiori E noi ci vediamo nel prossimo episodio Dove tanto mi studio anche le pozioni Perché non me le ricordo Non le so proprio forse No, non me le ricordo Perché le avevo studiate E creeremo pozioni di vita Non so neanche dove è il fiori Signori Abbiamo l'alambico Obiettivo raggiunto Qui da Padre è tutto Un saluto all'Oklabe Ciao a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti